La regina Camilla e il re Carlo hanno visitato oggi Liverpool per celebrare l'imminente concorso Eurovision. La regina consorte sembrava sbalorditiva in blu. La regina Camilla, 75 anni, e il re Carlo, 74 anni, sono usciti oggi a Liverpool per visitare la MS Ben Carena, che ospiterà il prossimo Eurovision Song Contest. La regina consorte era bellissima con un vestito blu elegante. L'abito e il cappotto in crepe di lana blu elettrico della regina Camilla, sono stati disegnati da Fiona Clare. Punto. La regina consorte ha già indossato molti dei suoi modelli. L'ultima volta che la regina Camilla ha indossato questo cappotto, è stato per il Commonwealth Day Service Hall Abbazia di Westminster a marzo, all'inizio di quest'anno. Per accessoriare, la regina Camilla, potrebbe essere vista indossare la sua accattivante spilla a Corona Tudor, che ha anche indossato molte volte quest'anno. La spilla d'argento ha la forma di una Corona Tudor, che è lo stesso disegno che compare sulla cifra di Re Carlo. Il nuovo trono di Re Carlo III porterà la Corona Tudor, in contrasto con il logo della defunta regina. Punto. Il cinturino sembra essere tempestato di zaffiri, rubini e smeraldi. Secondo gli esperti di gioielli di Stevenstone, stimano che la spilla costi 40.000 sterline. Maxwell Stone, un esperto di diamanti di Stevenstone, ha parlato in precedenza con Express della spilla. Ha detto, la spilla di Camilla è accattivante e intrisa sia di sentimento che di storia. A forma della Corona Tudor, la spilla d'argento presenta una fascia tempestata di zaffiri, rubini e smeraldi. L'esperto ha spiegato a Express.co.uk, perché questa spilla è una scelta simbolica per la regina consorte. Maxwell ha osservato. La Corona Tudor, è particolarmente simbolica, in quanto stilizza la cifra del Re Carlo III. Grazie a tutti.